Caro Paul Pogba, questo video lo apriamo così, quasi come se fosse una sorta di lettera indirizzata a Paul per commentare quelle che sono state le sue parole rilasciate a Sky Sport News, un'intervista in cui Pogba torna finalmente a parlare ufficialmente. Lo fa forse per la prima volta, da quando gli è accaduto tutto ciò, da quando è stato accusato di doping, fino a quando poi è stato, tra virgolette, graziato, ha subito questa riduzione della squalifica. Pogba che in questo momento si sta preparando per tornare ad essere a tutti gli effetti un calciatore, un atleta. Pogba che ha fatto capire di aver vissuto dei momenti duri, ci sono dei passaggi molto interessanti in questa chiacchierata, come quando dice che avrebbe preferito andare via dall'Italia a un certo punto perché tutti i giorni passare davanti alla Continassa o all'Allianz Stadium, anche solo banalmente per portare i bambini a scuola e non poter entrare per allenarsi. È una cosa che gli ha fatto molto male, che gli ha dato fastidio, che ha modificato il suo amore, che l'ha reso triste. C'è tanto uomo, c'è tanto persona Paul dietro a queste parole. C'è una spiegazione di come lui insieme alla sua famiglia ha vissuto questi momenti. Ha parlato di oscurità, che è una parola molto pesante, anche perché quando un atleta viene accusato di essere un dopato, beh, capite, da voi non c'è bisogno di stare qui a parlarne che stiamo parlando di un'accusa grave, infamante, che va a macchiare le carriere. È pieno l'esempio nel mondo dello sport di atleti, non solo calciatori che hanno dovuto convivere con questa accusa e che magari sono andate a rovinarsi anche delle carriere che magari potevano vantare dei trofei, dei titoli e essere dei campioni di appartenenza al proprio sport. Pogba dice che questa cosa l'ha fatto crescere, l'ha fatto maturare, che ora è un Pogba diverso rispetto a quello di prima. Un Pogba che ha voglia di rimettersi in gioco, si è paragonato a un ragazzino che vuole diventare un professionista e questa cosa fa molto ridere, perché in realtà stiamo parlando di un professionista che deve tornare ad essere professionista, perché il ragazzino Paul noi ce lo ricordiamo non bene. Di più, io personalmente ho un grandissimo ricordo di Pogba, dato che mi sono visto i suoi primi due anni di Juventus dal vivo, avevo l'abbonamento all'Allianz e andavo a tutte le partite in casa e vedere crescere quel ragazzo così giovane, con tanto talento e tanto potenziale, è stato qualcosa di meraviglioso. Ed è proprio lì che secondo me io ho lasciato il cuore in Pogba, perché io sono convinto di essermi innamorato dell'idea che poteva essere Pogba. Quindi intreccio un po' le sue parole con le mie emozioni, perché io sono stato chiaro e sono chiaro in questo quando dico che per me Pogba e la Juventus hanno terminato la loro storia. È finita la storia tra Pogba e la Juventus. Nonostante il bel messaggio giusto di Pogba nei confronti della società, e cioè io rinuncerei anche a dei soldi per stare la Juventus, perché io voglio la Juventus, voglio rimettermi in gioco con la Juve, voglio giocare nuovamente per la Juve. La 10 a Ildis hanno fatto bene, è un ragazzo forte, speciale, se l'è meritata. Quando la Juventus ha dato la 10 a Ildis io ero squalificato, quindi non potevo indossare quel numero. Quello non è il numero di Pogba, è il numero della Juventus che ha indossato Pogba. Queste sono tutte parole giustissime, condivisibilissime e anzi rendono Pogba comunque una persona intelligente da questo punto di vista, perché non va a creare polemica, è un argomento ovviamente che lui ha affrontato nel migliore dei modi. Ha detto che ora sarà il campo a parlare, che quando avrà la possibilità nuovamente di mettersi in gioco, proverà a mettere in difficoltà Tiagomotta, a dimostrargli che tipo di giocatore è Paul Pogba. Il problema, e secondo me è un grande problema questo qui, è che non c'era bisogno della squalifica per avere quell'istinto e quella voglia di dimostrare al mondo chi è Paul Pogba. Perché c'è un passaggio in particolare che è quello che mi ha colpito di più e che voglio discutere maggiormente insieme a voi. Quando Paul dice, e prendo questo virgolettato dal bianconero.com, perché io? Io volevo solo giocare a calcio e invece ero pieno di problemi e non finiva. Non eravamo pronti per queste cose, stava arrivando tutto in una volta. E a un certo punto crolli e basta. Il mio errore è stato non controllare più volte, ma se vai da un dottore e ti viene detto di prendere una determinata cosa due volte al giorno, tu cosa fai? Beh, questa è una ricostruzione che non mi sembra adeguatissima, perché se ricordo bene, poi magari cado in errore io, ma la Juventus non era stata informata di questa cosa e questo è già il primo macro errore. E quindi sicuramente Pogba dice, il mio errore è stato non ricontrollare più volte, non solo ricontrollare, che ovviamente un atleta professionista deve fare, ma anche informare la società, i medici della società, perché io nel pane della Juventus mi sarei sentita, la Juventus secondo me si sarà sentita presa particolarmente in giro da questa situazione. Quello che davvero dico, perché il passaggio che mi ha colpito di più è quando lui dice io volevo solo giocare a calcio. La domanda che mi faccio, perché poi mi serve una domanda per affrontare questa discussione, è Pogba voleva davvero solo giocare a calcio. Perché vi faccio questa domanda? Perché se io penso alla storia, alla carriera di Paul Pogba, tutte le volte, o comunque quasi tutte le volte, mi rendo conto che le scelte che sono state fatte sono state quasi sempre non condivisibili. Vi faccio un esempio. Pogba che da simbolo della Juventus, dal numero 10 della Juventus, all'apice della sua carriera, non decide di lasciare la Juve che in quel momento, in quegli anni, era comunque una potenza del calcio europeo che aveva appena disputato praticamente una finale di Champions e che avrebbe fatto una finale di Champions l'anno dopo, proprio con i soldi del mercato finanziato da Pogba, la situazione di Pogba, l'acquisto di Guain, eccetera, eccetera, eccetera. Pogba che in quel momento storico decide di tornare allo United, che era la squadra che l'aveva scaricato, era una squadra che non aveva creduto in lui, era una squadra che in quel momento aveva una dimensione molto diversa dalla Juve, cioè quello è già un grande interrogativo, perché lo fai? E la risposta, la motivazione che mi do, senza scomodare una figura come quella di Mino Raiola, è proprio perché in quel modo c'era la possibilità di generare degli introiti, di generare dei guadagni, perché se Pogba avesse soltanto voluto giocare a calcio, probabilmente sarebbe rimasto alla Juve, o forse sarebbe andato in un'altra squadra che poteva avere un appeal internazionale come la Juve. Io mi sarei sempre aspettato Pogba al Madrid in quegli anni, sicuramente non mi sarei aspettato un Pogba che tornava allo United, e quello credo sia stato l'errore più grande della sua carriera dal punto di vista delle decisioni sportive. Ma facciamo un altro passo avanti, quando Pogba decide di tornare alla Juve e si ritrova all'interno di un vortice che aveva tenuto lontano nei campi del gioco anche con lo United e deve decidere che cosa fare col ginocchio, non mette la Juve o comunque la sua carriera davanti a questa cosa, mette il Mondiale, mette la Francia, che è la nazionale, che non è il club che ti paga lo stipendio, è la nazione che ti senti di rappresentare, che rappresenti, con cui hai già vinto un Mondiale, vuoi vincerne un altro, vuoi rimanere nella storia. E quindi metti quelle scelte personali anche egoistiche di fronte alla Juventus. L'anno successivo, quando poi Pogba perde tutto un anno e entra in gioco il discorso del marabuto, del rapimento del fratello e di tutte queste cose extra calcio, è Pogba che va a visitare dei centri che fanno riferimento a delle società sportive dell'Arabia Saudita che in quel momento è la capitale dei giocatori che non sembrano più in grado di giocare ad alti livelli in Europa e devono andare a trovare una soluzione che gli permette di guadagnare tanti soldi in un campionato secondario. E lì ti viene in mente e dici cavolo un Pogba che dopo un anno così e di questi problemi fisici probabilmente fatica a trovare posto, chissà che non possa andar lì. Invece rimani, rimani dopo un anno in cui la Juventus ti ha cercato di curare, ma tu hai preso una strada completamente diversa, hai fatto di testa tua e prendi anche dei farmaci senza informare la Juventus. Farmaci che poi si rivelano gravi perché aprono tutto questo discorso. Allora la domanda che mi faccio è ma Pogba voleva davvero solo giocare a calcio? O si è ritrovato catapultato in un mondo in cui lui era molto bravo e siccome è uno dei più forti a fare determinate cose, ma che poi ha messo in secondo piano rispetto ad altri interessi che possono essere interessi personali proprio di orgoglio della serie. Torno a Manchester per far vedere che si sono sbagliati, vado a prendermi la mia rivincita. O economici, torno a Manchester perché quanti soldi muoviamo con questa roba, divento il giocatore più pagato della storia del calcio, vado a superare Zidane. O ancora, no non mi opero perché poi se no mi perdo il mondiale, chi se ne frega della Juve. Allora io mi domando ma Pogba in tutte queste scelte di carriera non ha sempre messo se stesso davanti a tutto il resto? Sempre prima lui. E in un gioco di squadra queste scelte, siccome alla lunga pagano, attenzione Pogba è libero di fare tutte le scelte che vuole. È stato libero di andarsene tutto quello che volete. Però poi quando devi fermarti un attimo e tirare la riga delle scelte che hai fatto e delle decisioni che hai preso, mi domando ma Pogba dal punto di vista della sua carriera, oltre a decidere di lasciare la United per venire la Juventus, quali scelte ha beccato? Perché è un giocatore che ha giocato soltanto in due squadre, United Juventus e basta. Di club, questa è la carriera di Pogba in prima squadra. È un giocatore che dal punto di vista fisico non sta dando garanzie. Gli ultimi anni lo United era claudicante, quando è stato disponibile alla Juventus ha fatto delle scelte che andavano in controtendenza rispetto a un recupero come si deve per essere sposato nel club. Noi non sappiamo oggi come sta Pogba fisicamente. Magari Pogba torna dalla squalifica e continua a mantenere quei problemi che l'hanno accompagnato nel corso di questi anni. Quindi io credo che Pogba in questo momento che, dico purtroppo per noi perché ha un anno in meno di me e quindi siamo praticamente coetanei, in questo momento che si rende conto di non avere ancora tante cartucce da sparare e che anche tornando dalla squalifica difficilmente riuscirà a trovare dei club di altissima fascia, probabilmente è andato a scavare dentro di sé, è andato a farsi queste domande. Secondo me questi discorsi che ho snocciolato in questo video, Pogba, questa domanda, ma davvero ho sempre solo voluto giocare a calcio? Se l'è fatta? E secondo me è andato a ripercorrere tutte quelle che sono state le sue scelte, le sue decisioni. Per quello che magari dice sono diverso, sono più saggio, sono cresciuto, sono più maturo, ho tanti anni in più di esperienza. Paul è arrivato da ragazzo, ho sconosciuto la Juventus, è andato via da stelle, è tornato da padre di famiglia, quindi anche lo status di Paul è cambiato. Il punto è che la riconoscenza, la fiducia soprattutto, che è la parola chiave, non è qualcosa di infinito, è qualcosa che va guadagnato. E se sbagli una volta e ti si perdona, e sbagli due volte e ti si perdona, sbagli tre volte e inizi a dire, non lo so, la quarta, la quinta, la sesta volta, difficilmente poi riuscirai a trovare nuovamente le porte aperte, perché le porte pian piano vanno a socchiudersi. A me fa molto piacere che Pogba abbia detto, ci sono stati dei compagni che mi sono stati molto vicino, anche ex compagni come Dybala, Quadrado, eccetera, eccetera, o compagni attuali della Juve, come, che ora non c'è più neanche Ken, però Vlaovic, McKennie, eccetera, eccetera. Mi fa super piacere, perché significa che Paul ha stretto dei rapporti importanti all'interno del mondo del calcio, e questa è una cosa meravigliosa, però questo non cambia per me. Questa cosa non può cambiare per me, perché Pogba se l'è creata col tempo questa situazione. Fosse stata solo il discorso della squalifica, io sono convinto che la Juventus avrebbe chiuso un occhio. Questa situazione è un continuo aggiungere, è una sorta di bicchiere che prima era vuoto, e poi ha iniziato a riempirsi, pian pianino, goccia dopo goccia, dopo goccia, dopo goccia, dopo goccia. Senza considerare che Pogba è stato acquistato da un'altra dirigenza sportiva, per un altro allenatore, con un altro progetto. Mentre oggi la Juventus è basata con Giuntoli, Tiago Motta, su un percorso differente, su giocatori da formare, su giocatori con ingaggi relativamente bassi, di abbassare l'età media, quindi Pogba da questo punto di vista è assolutamente un corpo estraneo alla Juventus. Ma io sono convinto che anche con la vecchia dirigenza, anche col vecchio allenatore, anche con la vecchia filosofia, con soltanto il discorso della squalifica perché rare è umano, si sarebbe chiuso un occhio. Il punto è che Pogba non solo ha sbagliato, ma ha perseverato, e quello invece diventa diabolico. E quindi lui oggi fa questo esame di coscienza, questo tuffo dentro se stesso perché ha capito di aver sbagliato tanto, se non tutto, se non troppo, e ora ha paura che tutto gli scivoli di mano, che non possa semplicemente tornare a giocare a pallone, che forse era la cosa che lui davvero voleva fare, ma che nel frattempo gli è scappata via e è diventata la cosa più fuori fuoco in assoluto della sua carriera. Perché ripeto, vado a ripercorrere la sua carriera e secondo me il calcio è stato soltanto il comun denominatore di tante scelte che sono state fatte soltanto per gonfiare un ego probabilmente importante che ha portato Paul a rovinare con le sue stesse mani, ma sono curioso di sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Un abbraccio e in bocca al lupo Paul, per un futuro lontano dalla Juventus.